Tu non dovevi usare quella chiave, tu non dovevi aprire quella porta, io non volevo aprire quella porta, ma quella porta era proibita, se volevi mettermi alla prova, volevo proprio mettermi alla prova, e ti ho visto oltre quella porta, e adesso cosa farò? Perché ho toccato la chiave, e adesso cosa farò? Perché ho toccato la chiave, tu non dovevi aprire quella porta, io non volevo aprire quella porta, tu non dovevi toccare quella chiave, io non volevo toccare quella chiave, io non volevo entrarsi in quella stanza, e tu perché mi hai dato quella chiave? Io non volevo aprirsi quella porta, quella l'aperta, la curiosità, e adesso cosa farò? Perché ho toccato la chiave, e adesso cosa farai? Perché ho toccato la chiave, e adesso cosa farò? Perché ho toccato la chiave, e adesso cosa farai? Perché ho toccato la chiave. Tu non dovevi aprire quella porta Io non volevo aprire quella porta Tu non dovevi toccare quella chiave Io non volevo toccare quella chiave Tu lo sapevi, era proibito Ma io in mano avevo quella chiave Tu non dovevi entrare in quella stanza E io invece ho aperto quella porta E adesso cosa farò? Perché ho toccato la chiave Perché ho toccato la chiave Grazie a tutti. Grazie a tutti.